buongiorno federica buongiorno paolo e buongiorno a chi ci segue con devo dire alcuni anche con affetto per i messaggi che riceviamo e mi fa piacere io non ho fatto in tempo federica pubblicare in questo insomma nella file di quest'oggi uno messaggio che mi è stato inviato da un nostro affezionatissimo comunque lo mostro la settimana prossima perché molto bello poi lo facciamo vedere oggi non non sono riuscito a farlo partiamo subito dall'agenzia delle entrate hanno pubblicato le commissioni ma anche poi a stretto giro una rettifica dottoressa delle commissioni comunque sostanzialmente l'aspetto più importante che il presidente delle commissioni è un ex direttore dell'agenzia delle entrate quindi hanno inserito come dirigente come membro della commissione un come dire una persona di rilievo una persona qualcuno direbbe una persona potente cioè ma nel senso è una persona che ha esperienza perché ha già gestito ehm dal versante del del in qualità diciamo di direttore eh una serie di selezioni per l'agenzia delle entrate è stata quindi a capo di eh questa amministrazione pubblica ed è Rossella Orlandi persona che ancora lavora all'interno dell'agenzia delle entrate adesso è direttore ehm della eh regionale dell'Emilia Romagna e mi sembra una scelta anche un po' in continuità considerate che Rossella Orlandi è stata anche vice direttore quando Ruffini era già direttore dell'agenzia delle entrate quindi comunque ha collaborato oltre che essere stata lei il capo dell'agenzia delle entrate ha anche collaborato comunque con l'attuale capo dell'agenzia delle entrate cioè con con Ruffini quindi mi sembra un po' una scelta in continuità e una scelta forte cioè un membro della commissione che ha che conosce molto bene dell'agenzia delle entrate quindi eh per questo io non mi aspetterei grandi sorprese come dire in termini di eh anche tipologie di domande che possano essere assegnate comunque poi lo vedremo strada eh strada facendo poi altre cose che ci chiedono eh sulla sulla agenzia delle entrate è eh quante sedi ci saranno se ci saranno sedi in ogni regione eccetera io ho detto già ad una serie di persone questi particolari li andremo a ehm li li avremo nei prossimi giorni con il comunicato ufficiale che eh sarà pubblicato dal eh Formez e dall'agenzia delle entrate quindi su questo purtroppo non non abbiamo delle indiscrezioni non abbiamo delle anticipazioni dovete attendere un po' ho solamente detto ma questa è una mia ipotesi attenzione io mi aspetterei comunque non una sede in tutte le regioni ma più o meno come è accaduto per il precedente bando dell'agenzia delle entrate eh di cui già si era occupato il Formez quantomeno dal punto di vista logistico eh mi aspetterei otto massimo dieci sedi a livello a livello nazionale quindi alcune regioni secondo me saranno saranno accorpate però questo poi tra qualche giorno lo sapremo quindi inutile che ci stiamo a eh eh stiamo a dibattere troppo su un aspetto che comunque non non credo incida poi nemmeno tanto sulla vostra preparazione. Altri aggiornamenti sull'agenzia delle entrate al momento non non ci sono anche su altre procedure concorsuali quindi per tutto il resto dobbiamo eh dobbiamo attendere. Vado dove l'ho pubblicato? Non l'ho pubblicato? No, devo averlo pubblicato. Eccolo qui. Eh andiamo sull'altra notizia che accennava eh Federica. Questa magari è una notizia che non interesserà eh tutte le persone che ci stanno ascoltando perché è più legata al mondo della scuola. Cioè il MIM ovvero il Ministero dell'Istituzione del Merito ehm tramite eh il ehm ha ricevuto da da parte del CSPI cioè il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha ricevuto un parere favorevole in merito alla bozza di regolamento che è un atto preliminare prima poi di avere anche il il bando. Bozza di regolamento in merito a che? In merito al concorso per i dirigenti tecnici. Un concorso eh su cui ormai si discute da più di due anni che io che io non so mai ricordi. Si si discute da tanto tempo. Che fanno i dirigenti tecnici? Chi sono i dirigenti tecnici? Sono quelli che eh diciamo il il la figura corrispondente a quella dell'ispettore che eh aveva in passato il Ministero della Pubblica Istruzione. C'è stata una eh evoluzione di questa figura e con il prossimo concorso le persone che saranno assunte saranno inquadrate come dirigenti di seconda fascia più precisamente come dirigenti tecnici. Quindi saranno dirigenti a tutti gli effetti. Ed è stato necessario in questo percorso adeguare tutta la normativa in merito anche alle procedure di selezione. Il prossimo concorso sarà un concorso che assomiglierà ad esempio alla procedura con cui vengono selezionati i dirigenti tramite eh tramite SNAH. Quindi al corso concorso SNAH. Quindi con una preselezione, con prove scritte a risposta aperta, con una prova orale. Quindi una procedura un po' più strutturata. E in merito ad esempio alla preselezione c'è proprio questo parere del ventuno settembre. Quindi è stato pubblicato da alcuni giorni ehm la seduta, il resoconto della seduta, il verbale più che resoconto della seduta del ventuno settembre in cui il Ministero ha chiesto alla CSP un parere tecnico sulla bozza di regolamento e eh questo parere c'è stato e in modo particolare ehm vi mostro proprio il regolamento così eh non evitiamo di dire sciocchiezze. Allora in modo particolare in merito ai quiz ehm perdonatemi una piccola parentesi. Non ho detto ma chi può partecipare a questo concorso che sarà per centoquarantacinque posti da dirigente tecnico? Possono partecipare eh i eh presidi come si diceva un tempo cioè i dirigenti scolastici e possono partecipare anche i docenti che hanno maturato un'anzianità di servizio di una decina d'anni. Quindi la platea eh delle persone interessate è una platea abbastanza ampia perché di docenti con almeno dieci anni di servizio e ce ne sono tanti in Italia parliamo credo di di eh molte decine di migliaia ma dobbiamo andare proprio su numeri a sei cifre eh più eh i dirigenti scolastici. Eh io eh ho qualche dubbio comunque sia sulla eh sulla modalità con cui hanno strutturato questo concorso nel senso che non è un concorso agevole. Spesso mi chiedete ma eh è un concorso insomma affattibile o meno. Questo è un concorso che richiede una preparazione importante, solida per mostrarvi in merito alla prova preselettiva sulla colonna qui di sinistra sono indicate eh le materie eh presenti diciamo nella bozza del ministero. Il ehm consiglio superiore della pubblica eh istruzione sostanzialmente ha confermato le materie indicate dalla eh dal ministero però ha suggerito alcune modifiche in termini di distribuzione delle domande e queste domande su quali materie vertono? Beh allora guardate qui c'è scritto un quesito prova preselettiva che dovrebbe avere una sessantina di quiz da svolgere credo in un'ora o poco di più senza banca dati. Attenzione è stato precisato senza banca dati. Allora una domanda sul diritto costituzionale. Viene una domanda sul diritto costituzionale significa che comunque il diritto costituzionale va va studiato. Poi ancora una domanda sul diritto amministrativo. Una domanda sul diritto civile con particolare riferimento bla bla bla. Una domanda di diritto penale. Ci sono già quattro materie. Costituzionale, amministrativo, civile e penale. Poi ancora una domanda sul diritto internazionale e incluso il diritto dell'Unione Europea e siamo alla quinta materia. Poi ancora il diritto dell'Unione con particolare riferimento ovviamente ai settori dell'educazione e dell'istituzione. Cosa non proprio semplice, semplice, agevole, agevole? Siamo a cinque materie. Poi si parla di ventotto quesiti ma in merito a cosa? Quindi il il nocciolo, il il nucleo principale di domande nella bozza inizialmente si parlava di dodici quesiti. Il CSP ha suggerito di portarli a ventotto perché è questo il il core business di questa di questa selezione della preparazione dei futuri dirigenti tecnici. Comunque si parla di normative politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione relativa architettura istituzionale con particolare riferimento a autonomia scolastica, funzioni amministrative dello Stato e della Regione statuto ordinario e statuto speciale, parità scolastica e scuole non paritarie, inclusione, personalizzazione, individuazione degli apprendimenti, prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo, diritto allo studio, ordinamenti scolastici, valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi, sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, apprendistato, istruzione post secondaria non terziaria, istruzione delle adulte e apprendimento permanente, sistema nazionale di valutazione con anche le prove invalsi, formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale ATA, sistema della formazione italiana del mondo anche con riferimento agli aspetti non riconoscibili al sistema educativo di istruzione e formazione, ordinamento funzione dell'organizzazione centrale per i carri del Ministero dell'Istruzione. Ma è finito qui? No, c'è anche, dottoressa Argelli, pensi a quante cose dovrà mettere insieme per mettere su un libro su questo. Due quesiti per la normativa e politica in tema di istruzione e formazione superiore con riferimento a sistema nazionale di istruzione tecnologica, elementi sulla disciplina di istruzione, tutta questa altra roba. Poi due quesiti sul diritto del lavoro? Mica poteva bastare qui, dottoressa, anche due quesiti sul diritto del lavoro. Basta qui, le dirà? No, dottoressa. C'è anche due domande sulla contabilità di Stato. Ebbene, non mettiamo contabilità di Stato? È finita qui, dottoressa? No, dottoressa. Ci sono due domande per ciascuna di queste materie, didattica generale, sociologia generale, che non è proprio una robetta di di poco conto, dottoressa Bella. Sociologia generale, cioè che all'università c'è proprio un tomo enorme di sociologia generale. Basta qui? No, anche pedagogia generale e sociale e pedagogia e didattica speciale. Dottoressa, sarà finita qui? No, sette quesiti di logica, e ce la mettiamo un po' di logica, anche perché, insomma, nel format di selezione dei dirigenti, almeno tipo dirigenti SNA, un po' di logica c'è, quindi anche la logica c'è, e poi ovviamente l'inglese, e poi ovviamente un po' di informatica. Insomma, questo per farvi capire come. Questo per la prova preselettiva. Poi ci sono due prove, diciamo, a risposta aperta e poi una procedura molto impegnativa. Io non so quante persone se la sentiranno di affrontare un percorso di formazione che non è proprio robetta, è una cosa. Per preparare questo concorso, quando mi chiedete, insomma, se è accessibile, io vi dico, è impegnativo, è molto, molto impegnativo. Cioè, bisogna studiare tanto, non è una cosa che si può improvvisare nell'arco di qualche settimana di studio. Quindi, se qualcuno, magari dei vostri conoscenti, insomma, fosse interessato a prepararlo, è importante prepararlo, non aspettate, come dico spesso, il bando, ma dovete proprio da subito iniziare a studiare. Le materie saranno sostanzialmente quelle che vi ho indicato. Quindi, prima iniziate a studiare è meglio perché c'è proprio tanta, tanta, tanta roba da puntualizzare, da studiare, da apprendere. Quindi, ci vogliono mesi di studio per avere delle possibilità di giocarsela per bene. Quindi, c'è questo parere positivo del CSP. Adesso, nell'arco di alcune settimane, insomma, dovrebbe essere pubblicato il regolamento in gazzetta ufficiale e dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale si attende poi la pubblicazione del bando. Secondo qualcuno, per espletare queste fasi andranno via ancora un bel po' di settimane. Comunque, entro la fine dell'anno, c'è chi dice che è possibile che entro la fine dell'anno venga pubblicato questo bando. Di altri bandi, tipo il bando dei DSGA, ancora oggi, visto che ogni tanto me lo chiedete, ancora oggi non vi so dare degli aggiornamenti. Non so se la dottoressa Argelli sui DSGA ha degli aggiornamenti da fornire. Io, purtroppo, non ne ho. Dottoressa, lei ce li ha? No, purtroppo no. No, e quindi bisogna attendere ancora. Però, ad esempio, per i DSGA un regolamento era stato già approvato, quindi aspettiamo, vediamo, insomma, cosa succede. Quando ci saranno aggiornamenti ve li forniremo. Mentre la dottoressa ha degli aggiornamenti importanti sul concorso a cattedra TEL, la procedura straordinaria TEL, che aggiornamento c'è? Sì, allora, si attende in settimana il via libera dall'Unione Europea e che dovrebbe poi portare alla pubblicazione, diciamo, quasi imminente del bando per 30.000 posti. Di questi 30.000 posti, più di 9.000 saranno posti per il sostegno e i rimanenti saranno posti comuni, quindi per le varie classi di concorso e il bando prevede una prova scritta a testa risposta multipla e poi una prova sulle varie materie già indicate in precedenza dal Ministero e una prova orale dove ci sarà una simulazione di una lezione. E come sta facendo mostrare il prof, noi abbiamo preparato il libro, il manuale per il concorso straordinario TER, questo in particolare per i posti in comune e da oggi è disponibile anche il prof, questo non lo sapeva, lo dico io, anche il manuale ad hoc per l'insegnante di sostegno, quindi con le materie richieste, insomma, tutti gli argomenti di studi richiesti per gli insegnanti di sostegno. Poi metterò per chi, insomma, interessa il link in chat. Bene, bene, quindi queste per il momento, insomma, le informazioni su concorsi relativi al mondo scuola. Se a qualcuno interessa per l'agenzia dell'entrata c'è questo volume riuscito da alcuni giorni sulle simulazioni commentate, quindi una serie di simulazioni con 60 domande, molti mi hanno chiesto ma allora i test saranno con 60 domande? No, al momento non sappiamo quante domande saranno assegnate. Il precedente concorso consisteva in una prova con 65 domande da svolgere, credo, in 50 minuti. Quello ancora precedente come prova tecnica credo fossero 80 domande da svolgere in 60 minuti o 70, insomma, giù di lì, quindi comunque un po' meno di un minuto a domanda. Il prossimo, vediamo se tra qualche giorno nel comunicato di metà mese saranno date delle indicazioni. Considerate che spesso l'agenzia non le fornisce prima dello svolgimento del concorso, ma saprete magari direttamente il giorno del concorso esattamente quante domande saranno assegnate. Io vi dico che non mi aspetto meno di 60 domande, secondo me sarà il numero di domande assegnato, potrà oscillare tra le 60 e le 80 domande. Comunque, poi lo sapremo tra qualche giorno. Al momento non abbiamo nessuna indicazione ufficiale. In questo volume trovate delle simulazioni con 60 domande per ciascuna simulazione e poi le risposte sono commentate in modo tale che insomma eventuali domande che sbagliate in modo da avere delle indicazioni sul perché le avete sbagliate e quindi come approfondire gli argomenti sui quali magari siete un po' più deboli in termini di preparazione. Detto questo, dottoressa, allora, poi c'è stato qualcuno che ha continuato a chiedermi di questo bando dell'agenzia delle dogane. Mi dicono, ma noi abbiamo saputo che è imminente questo bando. Io non so chi le dice queste cose, ma come vi ho detto anche in passato, io tutte queste notizie di bando imminente da parte dell'agenzia delle dogane, almeno per funzionari, io queste notizie non le ho. Come mia abitudine vi mostro qualche documento in più. Intanto, tra le domande che mi hanno posto, c'è stato anche chi mi ha chiesto ma quanto guadagna un funzionario dell'agenzia delle dogane? Guardate, mediamente, almeno come stipendio tabellare, è riportato qui. Questi sono valori che comprendono anche la quota relativa alla tredicesima. Parliamo per i funzionari, quindi diciamo i profili per laureati, di 25.588 euro annui, quindi mediamente un po' più di 2.000 euro al mese. Gli assistenti, qualcosina in meno, parliamo di 21.000 euro annui. Gli operatori, ancora qualcosina in meno, c'è all'incirca 20.000 euro annui. Però la figura dell'operatore in tante amministrazioni sta via via scomparendo, quindi diciamo le due figure che interessano alla maggior parte delle persone che ci seguono sono queste. Per i dirigenti, ovviamente, cresciamo, i dirigenti di seconda fascia, parliamo di 45.000 euro annui, quelli di prima fascia di 58.000 euro annui. Negli ultimi mesi l'agenzia delle dogane ha anche espletato una procedura per dirigenti, un concorso per 40 posti da dirigenti di seconda fascia. Detto questo, fatta questa precisazione così ho risposto anche a chi ci chiedeva ma quanto guadagnano queste persone, insomma, più o meno avete delle indicazioni prese proprio da documenti ufficiali dell'agenzia delle dogane. In merito al profilo da dirigenti, però, considerate che i concorsi interni dell'agenzia delle dogane, per poter partecipare a questi concorsi da dirigenti, è necessario aver maturato un'esperienza dalla pubblica amministrazione di 5 anni. Comunque sia, sostanzialmente, al momento, non sono previste a breve, se non forse, una procedura per 30 posti, ma non ho capito bene su questa procedura per 30 posti. Però, per altri posti da dirigenti, al momento, non sono previsti nell'immediato altri concorsi, perché la procedura, quella da 40 posti, è stata conclusa, 40 posti da dirigente e quindi lì poi eventualmente si potrebbe anche procedere per scorrimenti di regolatoria. Non solo, l'agenzia delle dogane pescherà anche, potrà assumere alcune unità, credo una decina di unità, dalle graduatorie del concorso SNA. E poi altre figure possono essere prese anche con procedure di mobilità o con altre modalità che sono previste comunque dalla normativa. Quindi, al momento di nuovi concorsi per dirigenti, a breve, da parte dell'agenzia delle dogane, ripeto, se non per una procedura per 30 posti, ma non ho capito bene, è un elemento che devo approfondire, però al momento non si parla di questo tipo di concorsi. Per le altre aree, in modo particolare, funzionari e assistenti. Intanto stanno concludendo i due bandi precedenti, quelli dello scorso anno, sostanzialmente. Quello che è previsto è, partiamo dall'attuale consistenza organica dell'agenzia delle dogane, ovvero al 31 dicembre 2022, cioè alla fine dello scorso anno, poi l'aggiornamento sarà fatto tra qualche mese, si parlava di 9.560 unità, più precisamente 5.827 funzionari, 3.600 assistenti e 49 operatori. Questa è la consistenza appartenente alle varie aree, con una scopertura di circa il 24%, cioè rispetto ai posti che l'agenzia delle dogane potrebbe assumere, alla quantità di unità che l'agenzia delle dogane potrebbe assumere, ci sono all'incirca una posizione su quattro scoperte. Possiamo dirlo così. In più, si prevedono nel triennio 2023-2025 una serie di altre cessazioni, cioè all'incirca 1.600, ovvero 591 fino alla mattina di quest'anno, del 2023, 519 nel 2024 e 509 nel 2025, in termini di previsione, tipo per persone che vanno in pensione. Quindi, considerando anche le scoperture, a meno di ulteriori procedure, il numero di posti vacanti per funzionari e assistenti in modo particolare potrebbe raggiungere proporzioni superiori ad un posto ogni 3 vuoto, non coperto da nessuna posizione. Cosa intende fare l'agenzia delle dogane, visto nel dettaglio? Allora, intanto, nel corso del 2023 sono programmati gli ingressi di 983 unità, in realtà questo è un numero che poi è stato già rivisto da parte degli organismi competenti. Queste 983 unità come saranno assunte. Tre sono vincitori del vecchio, del penultimo concorso, quello da 766 posti. Poi ci sono i 340 vincitori del concorso del bandito il 30 agosto 2022 per la terza area, cioè per i funzionari. 640 del profilo per gli assistenti, sempre quello dell'agosto del 2022, quindi di poco più di un anno fa. Considerate che però nel frattempo si parla di, sempre da queste regalatorie, se ci sarà un numero di doni sufficiente, in realtà le persone che saranno assunte saranno in numero maggiore rispetto a queste perché c'è stato un ampliamento del numero dei posti disponibili, in modo particolare 403 unità in più per l'area terza, cioè per i funzionari e 196 in più per l'area seconda, per l'area degli assistenti. Quindi complessivamente i funzionari, se il numero di doni lo consentirà, i funzionari assunti dai concorsi del 2022 non saranno 340 ma saranno oltre 700 e gli assistenti assunti non saranno 640 ma saranno oltre 800. Volendo sintetizzare, dottoressa Bella, ma questo con scorrimenti delle regalatorie che saranno pubblicate o che hanno già pubblicato, adesso non so se hanno già pubblicato alcune regalatorie per alcuni profili, però quelle che sono diciamo in via di definizione con la conclusione delle procedure, cioè con i bandi, quello da 340 e quello da 640 dell'agosto del 2022, non con nuove procedure. Eventuali posti scoperti eventualmente potrebbero essere, potrebbero andare all'interno di un bando come contingente di assunzioni di un nuovo bando. Spero, dottoressa, che mi stiate seguendo, ma dimostro ancora più nel dettaglio la tabella, purtroppo non si vede bene, però vi aiuto io in termini proprio di assunzioni programmate nel triennio 2023-2025. Allora, per il 2023, si vede malissimo questa tabella, per il 2023 ci sono le tre unità da assumere con in merito ai vincitori di ogni del concorso per il penultimo bando, quello da 766 unità. Quindi nulla di nuovo, sono vecchie, come dire, posizioni. Poi 743 con il bando da 340 unità. Non sappiamo se saranno assunti tutti, dipenderà da quanti doni ci saranno in quel bando di concorso. Può anche darsi che si riescano ad assumere tutti quanti. Poi ancora 800, credo 36 circa, con il bando da 640 unità, quello da assistenti sempre dell'agosto del 2022. Quindi vecchio bando, non parliamo di nuove assunzioni. Poi ci sono una serie di assunzioni che saranno fatte per mobilità o assunzioni obbligatorie, ad esempio 48 assunzioni obbligatorie, quelle per le categorie protette, eccetera. Poi una serie di mobilità, 2, 3, 60 e ce ne sono tante, ma sono tutte più che altro mobilità o situazioni di questo tipo. Poi ci sono le progressioni verticali e quindi comunque riguarda il personale all'interno dell'Agenzia delle Dugane e ci sono altre posizioni tipo 270, 41 e via discorgendo. Poi ancora si parla di eventuali doni del concorso a 340 unità, quindi eventuali ulteriori scorgimenti. Se ricordate io vi ho parlato di come nuove autorizzazioni di 250 assunzioni per funzionari e 279 per gli assistenti, ma in questo documento viene indicato che saranno assunti andando a pescare gli doni sempre dei concorsi dell'agosto del 2022, dottoressa, quindi non un nuovo bando. Ovviamente con la postilla che ci siano dei posti da assumere, dei posti vacanti, quindi possibilità di assunzione, perché può anche darsi che esauriscano subito le gradatorie e che quindi restino scoperte queste posizioni e quindi a quel punto poi l'Agenzia eventualmente andrà a programmare una nuova procedura. E comunque queste sono posizioni programmate in termini di assunzione nel 2024, i 250 funzionari e i 279 da pescare, da la gradatoria del bando da 340 funzionari e da 640 assistenti. Si parla di un'eventuale assunzione di vincitori di un nuovo concorso per il 2025, dottoressa Bella, 2025 e si parla di un eventuale bando da 300 posti e per i funzionari da 200 credo 50, non leggo bene, per gli assistenti. E sono bandi che probabilmente saranno pubblicati nel corso del 2024, poi si vedrà se esattamente con questi numeri o se i numeri verranno ritoccati anche in base insomma a come si concluderà la procedura di assunzioni in merito ai bandi dell'agosto del 2022. Dottoressa, sono stato chiaro? Perché l'agenzia delle rogane tutte le settimane ci chiedono quando li pubblicano? Sì, però posso anticipare una domanda intanto che è fatta credo su questa domanda. Anticipi, anticipi. Ma per molti profili nell'ultimo concorso non sono stati coperti i posti messi a bando? Ci chiede o ci dice analisa. Va benissimo, i posti che non sono stati coperti, poi nel 2024 andranno, quali saranno i nuovi bandi? Sono questi qui in modo particolare, questo da 300 posti per funzionari e 250 per assistenti. Quindi saranno inseriti nel bando che insomma immagino pubblicheranno nel 2024, poi andrà via un anno per completare tutte quante le fasi e poi nel 2025 saranno assunte queste persone. Però io di imminente tipo roba di alcune settimane non ho nulla, cioè andranno via alcuni mesi prima del prossimo bando, salvo notizie che ad oggi non ho. Io vi parlo partendo dalle notizie che ho. Dalle notizie che ho non emerge nulla di proprio imminente tipo settimane ed è già da qualche mese che si dice che sono imminenti questi nuovi bandi. Quindi io da alcuni mesi sto dicendo non ho queste notizie. E vi ribadisco a maggior ragione quanto ho detto. Di imminente chi lo sappia non c'è nulla. Per il momento tutto quello che faranno lo faranno con le gradatorie che ci sono, che sono in atto, per i scorrimenti di queste gradatorie e poi per i profili per i quali sarà esaurita, poi se ne vi parla, è il prossimo anno. Cioè non vanno a fare, è improbabile che l'agenzia decida di fare concorso, che ne so, per i chimici. Non ci sono posti in gradatoria, facciamo un bando solo per i chimici. È più probabile che comunque aspettino che insomma di, che vengano esaurite anche le altre gradatorie e poi si proceda con un concorso unico per i funzionari e un concorso unico per gli assistenti. Però vediamo poi come si evolve la situazione. Ad oggi, da quanto ne so io, insomma ci vogliono ancora mesi prima che vengono pubblicati i nuovi bando. Però chi è interessato a questi banni di concorso, come tante volte dico, studiate, non aspettate il bando, sennò poi viene pubblicato il bando e non fate in tempo a prepararli in modo decente. Poi dottoressa, ho risposto, c'era altro? No, direi che su questo bando, adesso forse allora. Qui dice Giulia, i posti vacanti di assistenti per agenzie delle dogane possono essere coperti tramite scorrimento graduatorio RIPAM? No, perché sono, cioè dubito, non è impossibile ma dubito. Proprio come preparazione parliamo di profili abbastanza diversi, quindi dubito. Sì, questa è una domanda che mi ponete spesso e io ho detto spesso che non è così facile. Intanto ci devono essere delle convenzioni tra l'ente che richiede queste cose di assumere e il Formez. Non è escluso che possa accadere, però dobbiamo parlare di profili assimilabili. Il Formez ha pubblicato un bando per il profilo di assistente amministrativo. L'agenzia delle dogane come assistente amministrativo non ha tanti posti, anzi credo che non ci sia proprio nessun posto vacante nelle gradatorie nel profilo di assistente amministrativo, più sugli assistenti tecnici ci sono posti vaganti. Sugli assistenti tecnici parliamo di cose completamente diverse rispetto alla gradatoria RIPAM. Quindi c'è la possibilità per i profili da assistenti amministrativi, ma lo apro il bando perché poi a memoria non ricordo tutti quanti i profili. Quindi era bando 640 agenzia doriane. Eccolo qua. Allora, così diciamo, prove presettive, prove scritte, bla bla bla, e dove sta il determinazione? Eccolo qua, il bando. 30 agosto del 2022. Allora, i posti, vai, vai, quindi, vediamolo qui, tutte le tabelle. Quindi ci sono, quindi un profilo tipo assistente amministrativo. Allora, questo assistente amministrativo probabilmente più o meno, insomma, come in termini di preparazione potrebbe essere simile al concorso Formez e quindi se dovessero esserci dei posti liberi per questo profilo, ma ripeto, credo che proprio per questo profilo non ci sia nessun posto libero, per questi potete sperare che l'agenzia delle dogane possa chiedere al Formez di pescare dalle loro graduatorie. Mentre per altri profili tipo, anche questo assistente amministrativo, e va bene, questo qui. Già il profilo di ragioniere inizia a essere un profilo diverso rispetto a quello di assistente amministrativo. Quindi già per questo io, supponendo che ci siano dei posti rimasti liberi, dubito che ci possa essere una convenzione con il Formez. Per altri profili tipo questi 100 di perito informatico, no, perché parliamo di un profilo che è sempre lo stesso bando di concorso, ma parliamo di un profilo che è molto diverso rispetto al profilo che ha messo a bando il Formez con il concorso unico per assistenti. E via discorrendo. Quindi poi per questi altri profili, e i posti vacanti sono per lo più, da quanto mi è stato detto, per profili tecnici, per gli assistenti tecnici, e questi profili non possono essere pescati da una regalatoria in cui sono state assunte persone o che da una procedura che era finalizzata all'assunzione di persone con una preparazione diversa. Quindi eventuali convenzioni per profili assimilabili, per gli altri profili no. Non so se, dottoressa, ho reso l'idea. Sì. Veramente, sono stato così di bravo. Sì, secondo me sì. E prof, le altre domande le leggiamo magari dopo, visto che sono un po' miste. Sì, se lei vuole continuare intanto con la sua presentazione, facciamo l'angolo domande. Assistente amministrativo, se c'erano delle regalatorie, non le vedo di assistente amministrativo, perché probabilmente stanno ancora completando le prove. È giusto per... vediamo, che ne so, perito informatico. Ecco, perito informatico, c'è la regalatoria di perito informatico, perché hanno finito per lo più ovviamente i profili tecnici, che erano quelli un po' più veloci, con meno persone. E su queste probabilmente ci saranno dei posti vacanti. Per la Basilicata, per un posto, no, nessun posto vacante. Abruzzo, due posti, ce ne sono in abbondanza di doni. Calabria, due posti, ce ne sono otto i doni. Civitavecchia, un posto, ci sono cinque i doni. Emilia Romagna, otto posti, ci sono dieci i doni, quindi sono andati lì, quindi probabilmente saranno, anzi, senza probabilmente saranno assunti tutti. Friuli, Venezia e Giulia, cinque posti, ci sono setti i doni. Gaeta, un posto, abbondanza. Gioia Tauro, un posto, ma tre i doni. L'Aquila, due posti, quattro i doni. Lazio, tre posti, quattro i doni. Liguria, otto posti, sedici i doni. Lombardia, sette, quindici i doni. Cioè, già per il perito tecnico vedete che abbondanza c'è stata. Adesso bisogna vedere esattamente in quale regalatoria ci sono i posti vacanti, però mi è venuto il dubbio, dottoressa, io voglio andare a vedere qual è la regalatoria dove ci sono posti vacanti. Lo sa come sono io, io sono un po' così, perché... Quindi, vediamo questa da ragioniere, c'è la regalatoria da ragioniere, è la regalatoria, vediamo per i ragionieri come siamo messi. Il Gatta College, vabbè, non ci interessa il Gatta College, vediamo. Quindi, due posti, due i doni. Benevento, due posti, tre i doni. Caserta, un posto, due i doni. Crippi di Venezia Giulia, otto posti, un solo i doni. Beh, qui, ad esempio, forse, forse, ma ripeto, già il profilo di ragioniere è un profilo abbastanza diverso rispetto a... Qui, forse qualcuno di questi si potrebbe pensare che possa esserci per questo profilo. Un posto, un i doni, due posti, tre i doni, due posti, un i doni, quindi qui c'è qualche posto vacante, quindi su questo forse, forse, per quella di ragioniere, ma mi sembra comunque complicato. E per il informatico abbiamo detto che non c'erano nessuna cosa, non c'erano posti vacanti. Quindi vediamo questo PI, vediamo c'è la creatoria, c'è la creatoria, vediamo un po', e poi basta, poi gli altri profili non li vediamo. Per questo, Abruzzo, un posto, tre i doni, un posto, basilicata, tre i doni, un posto, quattro i doni, due posti, un i doni, qui c'è un solo posto vacante, un posto, cinque i doni, due posti, e insomma, di questa praticamente non ce ne sono posti vacanti tranne uno o due, è proprio robetta. E comunque è un profilo tecnico e per questi proprio non aspettatevi. Va bene, dottoressa, quindi volendo continuare, così non perdiamo tempo, ma non abbiamo tanto altro, ma dottoressa in realtà io l'ho fatto come passaggio, anche per parlare di qualcosa di simile in merito all'altra gradatoria Formez, quella per i funzionari amministrativi, perché questa è una gradatoria in scadenza. Se ricorda, credo che la gradatoria del concorso unico per funzionari amministrativi sia stata pubblicata, penso, fine 2021, inizio 2022 al più, insomma, tra fine 2021 e inizio 2022. Quindi praticamente i due anni di validità della gradatoria sono in scadenza. E quindi c'è la possibilità che non ci siano nuovi scorgimenti, a meno che non ci sia un, che ne so, tipo una proroga della validità di un anno, cosa che si fa a volte con il mille proroghe, che è un decreto che viene pubblicato a inizio anno, generalmente, febbraio-marzo, per procurare una serie di scadenze amministrative. Quindi può anche darsi che possano decidere di procurare di un anno la validità di questa gradatoria. Altrimenti, lo dico perché ci sono ancora tantissimi doni, lei ricorda quando io dicevo di questa gradatoria, insomma, aspettatevi scorgimenti fino probabilmente alla posizione 5.000, 6.000, eccetera. Bene, con l'ultimo scorgimento sono arrivati più o meno alla posizione 6.500. Quindi non mi sono sbagliato di tanto, dottoressa. Però gli doni sono tipo 17.000-18.000 i doni. Quindi nuovi scorgimenti, considerate oggi ci troviamo nella condizione che è possibile che non ci siano altri scorgimenti. Nell'ultimo scorgimento, che era uno scorgimento di 1.300 più o meno posti, in quest'ultimo scorgimento ci sono state delle persone che non hanno indicato la preferenza, ci sono stati 238 candidati che non hanno effettuato la scelta dell'amministrazione. E il Formez adesso ha pubblicato proprio ieri un comunicato in cui chiede a queste persone di indicare la preferenza della sede e gli dà pochi giorni di tempo, fino al 9 ottobre, altrimenti dice pena di decadenza. Cioè se queste persone non effettuano la scelta della sede, decadono e questi 238 posti poi si vedrà come saranno in qualche modo assunti, se ci sarà poi ancora un ulteriore scorgimento per i 238 posti. Oltre a questo scorgimento, dottoressa, a chi mi chiede ma è possibile che ci siano altri scorgimenti? Quindi, ripeto, considerate che siamo più o meno verso la fine dei due anni di validità della creatoria e quindi c'è la possibilità che con gli scorgimenti ci si fermi qui. Poi vediamo cosa deciderà il governo in merito, se ci sarà una prorogra della validità della creatoria o meno. Ok, dottoressa, ci sono domande in merito perché questo è un tema spinoso, ci sono tante persone che hanno l'ansia, che succederà? Io sono alla posizione 8000, mi assumeranno o non mi assumeranno? Allora, prof, sto guardando tra le ultime domande. E no, prof, al momento su questa cosa magari ne arrivano dopo. Ok, giusto, altra notizia al volo, è stato pubblicato il calendario per la prova preselettiva di questo concorso della regione Piemonte per quattro posti di funzionario addetto ad attività giuridica, amministrativa, funzionale di controllo. Qualcuno ha presentato domanda? La prova si svolgerà il 6 novembre presso lo spazio congressi della nuvola Lavazza a Torino. C'era una persona che mi chiedeva delle indicazioni anche in merito alle informazioni che hanno indicato sui punteggi. Allora, per la preselezione è previsto un testo con 45 quesiti che avverteranno sia sulle materie d'esame, cioè le materie della prova scritta dalla prova orale, sia su abilità logico-matematica e di cultura generale. Queste 45 domande da svolgere in 60 minuti. Quali sono i punteggi della prova? Un punto alle risposte esatte, meno 0,33 alle risposte errate, meno 0,07 punti alla risposta omessa. In questo caso, questo è un concorso che sarà gestito comunque dal Formez, qualcuno lo ha visto anche in prospettiva agenziale dell'entrata, ad esempio. In questo concorso hanno deciso di inserire una piccola penalità anche alla risposta omessa, cosa che non sempre ha fatto il Formez, se in questo caso lo ha fatto, evidentemente ci sono state delle indicazioni che sono venute direttamente dalla commissione. Qui adesso al volo non vedo indicazioni sul numero di opzioni. Probabilmente saranno domande con tre opzioni o quattro opzioni. Queste sono tre o quattro opzioni di risposta, intendo. Se fossero tre le opzioni di risposta, voi dovreste ragionare così. Ogni tre domande, provando anche solamente ad azzardare la risposta, se uno decidesse di ometterle, comunque avrebbe una penalità di meno 0,07, meno 0,07, meno 0,07, perché anche le risposte omesse danno questo tipo di penalità. Quindi complessivamente, omettendo le domande, ogni tre il punteggio calerebbe di meno 0,21 punti. Azzardando la domanda, andando così in modo del tutto casuale, statisticamente ogni tre domande, una su tre, dovreste beccarla. E quindi una su tre significa un punto per la risposta corretta, meno 0,33 per le due sbagliate. Quindi statisticamente, poi c'è anche la possibilità che uno le sbagli tutte e tre, ma c'è anche la possibilità che, insomma, ne faccia corrette anche due, o se non addirittura tutte e tre. Quindi noi parliamo adesso in termini statistici, per la legge dei grandi numeri, una ogni tre dovreste beccarla. E quindi una ogni tre significa che uno meno 0,66 significa comunque uno più 0,34. Quindi questa è una di quelle situazioni in cui, se non rispondete proprio, il punteggio comunque scende di meno 0,21. Provando ad azzardare, statisticamente, c'è la possibilità di aumentarlo di 30, mediamente non c'è la possibilità, mediamente lo si aumenta di 0,34 punti. Quindi io direi che in questa situazione potrebbe convenire, come dire, azzardare anche tutte quante le risposte, anche quelle che non conoscete. Soprattutto se ci ragionate sulla traccia e in alcune situazioni ci sono delle risposte che comunque si possono escludere, perché sono proprio impossibili che siano corrette. E quindi in quel caso avreste ancora maggiori possibilità di incrementare il punteggio. Questo con tre opzioni. Se le opzioni fossero quattro, quindi nel caso in cui uno non risponda proprio, in quel caso con quattro opzioni dovreste ragionare ogni quattro domande cosa succede. Ogni quattro domande non rispondendo proprio significa una penalità di sette centesimi per ogni domanda, quindi comunque il punteggio lo andreste a ridurre di meno 0,28 centesimi. Rispondendo in modo casuale, comunque c'è la possibilità di beccare una risposta ogni quattro e quindi comunque un punto mediamente alla risposta corretta a tre sbagliate significa un più 0,01. Quindi anche in questo caso, anche se in modo meno netto, anche con quattro opzioni, se ne rispondete proprio, comunque lo abbassate di 28 centesimi. Altrimenti il punteggio è come dire, resterebbe invariato andando più o meno in modo, è probabile che resti invariato, mediamente dovrebbe restare invariato o addirittura aumentare di un centesimo, procedendo così in modo del tutto casuale. Quindi dicevo, in modo con quattro opzioni è meno netto, ma io direi che comunque potrebbe convenire rispondere a tutto quanto, soprattutto se poi su qualche domanda almeno un'opzione riuscite ad eliminarla. Con tre opzioni, beh, conviene ancora di più comunque rispondere a tutto quanto, anche alle domande a cui non avete dato risposta. Poi in termini di che tipo di domande di logica matematica potrebbero mettere, guardate, qualcuno mi ha detto, ma possiamo aspettarci domande tipo quelle che abbiamo visto sul sito della regione? Tipo, mi hanno postato questa prova, questa è una delle prove assegnate in uno dei concorsi precedenti della regione Piemonte e in questo caso, però, attenzione, nel bando, per questo bando che mi avete indicato, qui c'erano domande con quattro opzioni di risposta, quindi c'è la possibilità che le domande siano con quattro opzioni di risposta. Dicevo, qui ci sono domande proprio di matematica, ma perché nel bando era indicato proprio matematica, non logica matematica, ma matematica, quindi qualcuno, la dottoressa era un po' spaventato perché mi ha detto, ma non è che ci danno delle domande tipo queste equazioni da svolgere, minimi comuni multipli da svolgere, geometria da svolgere, quale figura solida genera un triangolo rettangolo ruotando attorno a un cateto. Io direi che domande proprio così, che sono domande più prettamente di matematica, ritengo che sia improbabile, ma proprio perché in questo bando non si parlava di matematica, ma di logica matematica. Certo, vi possono dare dei problemini da svolgere, logica matematica, tipo la domanda sulle probabilità, tanto per intenderci, tipo domande in cui magari non vi danno proprio l'equazione da svolgere, ma domande in cui in termini di ragionamento potrebbe essere necessario sapere impostare un'equazione che è ancora peggio per qualcuno, perché non solo bisogna risolvere l'equazione, bisogna anche impostarla l'equazione. Quindi da questo punto di vista, ripeto, domande del genere oppure domande qui, una domanda sulle potenze, per l'amore del cielo, non è un argomento di chissà quale grande difficoltà, chi ha un minimo di matematica è un argomento che si ripete anche velocemente, questa è quella che in matematica si chiama potenza di potenza e bisogna fare il prodotto degli esponenti, il prodotto degli esponenti diventa 2 elevato, 2 per meno 3 e 2 alla meno 6. E poi bisogna ricordarsi che questo meno consente di trasformare la frazione mettendo la potenza, mettendo un 1 sopra, linea di frazione, sotto la potenza con l'esponente positivo. Quindi è un 1 fratto 2 elevato alla sesta, già questo consente di eliminare con certezza la risposta B e la risposta D. Ma anche la risposta C si elimina tranquillamente perché 2 alla sesta è molto più di 16, perché già 2 per 2, 4, per 2, 8, per 2, 16, 2 alla quarta sarebbe 16, ma qui è un 2 alla sesta, quindi sicuramente più alto. Domande come la 30, ad esempio, possono capitare anche in una prova dove non c'è scritto matematica, ma c'è scritto logica matematica. Questa è una domanda di logica matematica che rientra, se vogliamo, nella matematica, però è come dire un po' più, è una branca della matematica. Qui c'è scritto ad un concorso 8 candidati furono ammessi alle proprie orali e l'80% fu eliminato allo scritto, che significa 8 sono stati ammessi alle proprie orali. Se l'80% è stato eliminato allo scritto, questi 8 ammessi rappresentano il restante 20%, per arrivare al 100% c'è a tutti quelli che hanno partecipato al concorso. Quindi è come se la domanda vi stia dicendo che 8 corrisponde a 20%. Ci chiede quanti erano praticamente tutti i candidati, tutti i candidati significa 100%. E io qui, senza nemmeno svolgere tanti calcoli, mi chiedo, ma 100% quante volte è più grande di 20%? 100 è 5 volte 20, è 20 per 5. Quindi evidentemente in termini assoluti il numero di candidati che hanno partecipato al concorso deve essere 5 volte questo 8, cioè 40. 5 per 8 è 40, quindi il 100% corrisponde a 40. Oppure qui potete impostare una proporzione, potete impostare un'equazione, risolvetelo come volete. Però questo ad esempio è una tipologia di domanda che potrebbe capitare nel concorso della Regione Piemonte in termini di logica matematica. Spero di aver risposto anche a questa domandina che mi era stata posta. E, dottoressa, prima di rispondere ad altre domande mi piaceva fare proprio un piccolo passaggio su De Luca, che da tempo non parla più del concorso della Regione Campania o comunque non sta facendo più tanti passaggi sulle assunzioni della Regione Campania. Però sta dedicando tanto spazio comunque ad un argomento che ha a che fare con i concorsi più nel dettaglio con i test di medicina. Sta portando avanti questa battaglia secondo me con toni che, devo dire, a me non piacciono. Penso si possa dire che a me non piacciono. Perché poi comunque si offendono persone che lavorano e lavorano in modo onesto. E parlando di quiz demenziali, test demenziali, io darei 20 anni di carcere a queste persone, eccetera. e io credo che i toni assunti siano toni che vanno oltre il piano del rispetto del lavoro altrui. Che credo sia l'elemento minimo che ci debba essere. Io posso non condividere quello che dice Federico Argelli, però insomma questo non mi autorizza poi a insultare Federico Argelli. Quindi da questo punto di vista, devo dire, ho apprezzato tanti aspetti del governatore De Luca, ma in questo caso stiamo andando, stiamo andando, credo stiamo andando oltre. che tra l'altro imbracciando una battaglia che a volte si basa su riscontri che non sono proprio quelli che lui racconta. Ad esempio lui ha contestato il fatto una domanda in cui si parlava di frattali, dicendo ma a me sembra una cosa che non esiste parlare di frattali. Che senso ha chiedere ai ragazzi frattali? In realtà ha senso, dottoressa. Perché chi è a scuola oggi, non chi ha frequentato la scuola trent'anni fa, sa che il concetto di frattale è un concetto importantissimo anche per la medicina. Perché se visto ad esempio che, tanto per farle proprio l'esempio banale, l'albero bronchiale lo si descrive molto meglio con i frattali che non con strumenti della matematica e della matematica classica. Diciamo così, la geometria frattale è un'evoluzione un po' più recente della matematica ed è una geometria che consente di descrivere alcuni fenomeni biologici, tra cui l'uomo, quando parliamo di uomo parliamo comunque di biologia, più nello specifico di anatomia, in modo molto più accurato rispetto a quanto non si facesse con precedenti strumenti della conoscenza. Quindi che i ragazzi conoscano il concetto di frattale non è una banalità, è una cosa importante che poi ci siano dalle persone come Federica Argelli che non l'ha mai studiato nella vita sua perché vent'anni fa meno la dottoressa Argelli è giovane, cinque anni fa quando ha frequentato le scuole non se ne parlasse e ci sta perché insomma la scuola è giusto anche che adegui le proprie conoscenze o meglio le conoscenze che trasmette anche all'evoluzione dei tempi e in termini di evoluzione c'è questo nuovo concetto di frattale e in tante scuole se ne parla, io ho visto anche in scuole medie o addirittura nella scuola primaria non si dice più scuola media, scuola secondaria di primo grado o nella scuola primaria dei lavori fatti perché da un punto di vista visivo creano degli effetti ottici che sono anche che sono anche carini che magari per i bambini possono come dire sembrare anche un giochino quindi ho visto anche dei lavori di classe o comunque degli incontri, delle conferenze certo si dà sempre molto più spazio all'algebra all'aritmetica, alle tabelline per i bambini piccoli però in molte scuole, su molti libri ci sono queste schede di approfondimento in merito ai frattali e più in generale, ripeto, questo è un concetto che inizia ad assumere una certa importanza proprio per chi deve studiare fenomeni biologici tra cui chi si deve scrivere a medicina quindi la battaglia fatta, oltre a questo anche altri test di cui ha parlato si potrebbe dire, insomma, tanto sulle osservazioni che sta facendo è una battaglia che probabilmente avrà delle finalità politiche che a me non interessa, non mi interessa fare politica a me interessa il fatto, l'oggetto da questo punto di vista credo che si stia venendo stia venendo meno il rispetto nei confronti di chi lavora onestamente e anche con grande professionalità e questo a me, dottoressa, francamente non piace e mi piaceva, sottolinea lei condivide o non condivide? lo dica, si esponga condivido, prof, condivido bene, allora diciamo un po' di cose le abbiamo dette se ci sono delle domande, rispondo al volo alle domande altrimenti salutiamo e poi per altre notizie clamorose ne parliamo la settimana prossima ci dica no prof, io lo farei un giretto di domande cosa dice lei? allora, partiamo dall'inizio dell'inizio dall'inizio dell'inizio esatto la genesi eh sì, esatto allora, così cerchiamo di farle tutte novità per il concorso città metropolitana di Palermo? no ok, poi prossimi concorsi ministero giustizia ci saranno posti al sud? sì, non tantissimi la maggior parte dei posti al nord iniziate ad orientarvi in questi termini però almeno i profili per assistenti sì, ci saranno le posti anche al sud ci sarà possibilità di scegliere la sede di lavoro? sì, ma quello molte probabilmente intendono se ci sarà una regolatoria unica e poi sulla base in base alla posizione ehm ciascuno poi sceglie chi è più in alto in posizione ha più possibilità di scelta credo che chi ha chiesto questa cosa intenda questo diciamo che in realtà il ministero della giustizia da tempo sta gestendo concorsi su base distrittuale dove i candidati scelgono da subito il distretto per il quale concorgono poi ovviamente in quel distretto non ci sarà un solo ufficio ci saranno più uffici quindi al più potranno scegliere diciamo l'ufficio ma in quel distretto in provincia di Palermo che ne so ci saranno il tribunale con tre, quattro sedi e quindi uno può scegliere la sede ma lì in quella provincia non è che poi può decidere di andarsene a reggento quindi da questo punto di vista da più tempo il ministero della giustizia ha impostato i concorsi in questo modo quantomeno gli ultimissimi sono stati impostati su base distrittuale quindi io credo che anche per quello che poi è accaduto con l'evoluzione normativa è più probabile che siano impostati così cioè con la scelta della sede a monte però questo è un aspetto che ad oggi ancora non conosciamo ok prof ci chiedono i prossimi concorsi agenzie entrate e IMS avranno una sola prova come l'ultimo concorso agenzie entrate l'ultimo agenzie dell'entrate intanto cioè questo è un svolgimento si lo si sta facendo anche un po' a mo' di come dire a mo' di in modo sperimentale per vedere anche come va e tutto quanto secondo me anche poi il concorso dell'agenzia dell'entrate 2024 è probabile che abbiano prova unica come quello di quest'anno e poi si farà una valutazione per quelli poi eventualmente degli altri anni per capire se il riscontro è positivo o negativo in termini anche di qualità delle persone assombe quindi io dico per l'agenzia dell'entrate credo ho la sensazione non ne ho la certezza ma che anche il prossimo sarà con prova unica per l'Inps dobbiamo aspettare ancora le determinazioni dei vertici dell'Inps per capire se adotteranno il sistema della prova unica o meno al momento non sappiamo nulla ok ci sono ci chiedono anche quando verrà bandito il concorso per il decreto sud non dovrebbe mancare molto è una di quelle cose che va fatta con una certa sollecitudine quindi può darsi che lo facciano entro fine anni può darsi però ancora non abbiamo una indicazione precisa ok ci saranno prossimi concorsi ai centri per l'impiego in Sicilia pare di sì perché credo che ci siano dei posti pacanti non hanno coperto tutti quanti i posti ovviamente con meno posti rispetto al precedente bando ma dovrebbe esserci un concorso tra alcuni mesi per coprire i posti che poi non sono stati coperti con il precedente bando ok si sa quando uscirà il prossimo concorso a detto ufficio processo e anche quello regione campania no prima ho fatto un passaggio dicendo proprio di deluro insomma sta parlando tanto di questo argomento però sta parlando molto meno invece di una cosa che rientra anche nelle sue competenze cioè il discorso del piano di assunzione di cui lui varie volte ha parlato di migliaia di assunzioni per le amministrazioni della regione campagna non ne sta parlando più tanto se non ne parla lui e parla di altre cose insomma io più di tanto non so dirvi al momento quindi lui inizialmente si parlava di un bando per inizio 2023 io vi avevo già detto mesi fa che mi sembrava improbabile per l'inizio del 2023 ma quando e se poi a questo punto venga pubblicato non lo sappiamo io vi posso dire che quel che è vero e per onestà va detto è che il procedimento amministrativo per regolare alla pubblicazione di un nuovo bando è stato è stato avviato poi perché stiano andando tanto a rilento e c'è stato solamente un passaggio di De Luca in cui qualcosa magari l'ha fatta intuire cioè il fatto che ci sono state poche amministrazioni che hanno aderito mi è sembrato di capire perché su questo ripeto ancora non si capisce bene quindi può darsi che sia questo il motivo e quindi si stia aspettando che altre amministrazioni aderiscano al progetto di De Luca o se ci sono altri problemi al momento non ve lo so dire però è vero che è stata avviata la procedura procreatica per arrivare alla pubblicazione del bando questo per insomma il concorso della regione campagna qual era l'altro bando che avevano chiesto arrivo ufficio del processo sull'ufficio del processo Nordio recentemente ha parlato anche in una credo in una question time in un Parlamento dicendo che stanno cercando cioè stanno lavorando sulla conversione dei posti determinati in posti indeterminati e quindi credo che daranno priorità a questo e poi si procederà con l'eventuale nuovo bando per l'ufficio del processo come tempistica insomma non dovrebbe mancare comunque tanto penso per fine anno o al più inizio 2024 il nuovo bando ok leggiamo un'altra domanda di Ambra che forse la volta scorsa mi scuso magari non sono riuscita a leggere allora cosa si sa circa la progressione verticale che consente di passare dalla mansione di assistente amministrativo a quella di funzionario oltre al titolo di studio richiesto cosa occorre serviranno dei fondi sarà concretizzabile questo dipende dalle singole amministrazioni è ovvio che servano dei fondi altrimenti non si può fare tipo l'agenzia delle dogane di cui ho parlato all'inizio del webinar negli ultimi mesi ha portato avanti una progressione verticale lo ha fatto anche l'agenzia delle entrate tra l'altro con numeri anche importanti per 700 posti di progressione dalla seconda area quindi quella delle assistenti alla terza area quella dei funzionari questo dipende proprio dalle dalle singole amministrazioni da accordi presi anche con i sindacati quindi bisogna capire l'amministrazione in cui lavora AMBRA se ha in previsione di portare avanti delle procedure di progressione verticale come titoli richiesti solitamente praticamente solamente il titolo quello relativo al requisito culturale io posso partecipare alla progressione verticale però se ho il requisito che mi consente di passare dall'area degli assistenti all'area dei funzionari anche se su questo a volte qualche derora è stata concessa ma per chi ha un'anzianità di servizio importante altrimenti comunque insomma consentono la progressione verticale solo a chi ha il requisito culturale relativo all'area verso cui si vuole transitare per il resto niente non poi questo bisogna capire che intenzioni abbia l'amministrazione poi le modalità con cui avvengono le progressioni verticali anche queste poi le si decide ogni amministrazione le decide anche in base a delle forme di contrattazione non è corretto esprimersi così però giusto per intenderci anche in virtù di accordi con i sindacati queste sono cose che generalmente vengono stabilite anche con insomma un accordo preso con con i sindacati poi e ci chiedono quando usciranno i concorsi ata e educatore della scuola infanzia primaria eh a saperlo non lo so lei lo sa no ata però mi viene un dubbio perché ci sono queste graduatorie sì però era mi sembrava fossero già scadute no forse allora per ata da tempo si sta parlando dell'eventuale diciamo il personale ata è uno dei pochi che viene assunto praticamente senza concorso tranne i DSGA ma altrimenti si procede con le graduatorie si sta parlando allo tempo della possibilità di come dire di intervenire da questo punto di vista per quantomeno alcuni profili della personale ata tipo gli assistenti amministrativi gli assistenti tecnici ma lei ha mai sentito un concorso per assistente amministrativo nelle scuole dottoressa no no a differenza di altri profili di altre amministrazioni dove ci sono concorsi per assistenti amministrativi nelle scuole non si entra con in questo modo ma con diciamo entrando iscrivendosi in queste creole autorie poi con i titoli di studio si acquisisce si acquisisce punteggio e poi di tanto in tanto vengono chiamate dalle persone quindi questo è un sistema che da tempo si vuole andare oltre questo sistema quindi probabilmente chi lo chiedeva lo chiedeva anche in quest'ottica però devo dire di questa cosa si parla da anni cioè il fatto di procedere anche per il personale ATA con dei bandi di concorso come si fa in altre amministrazioni però ad oggi ancora io non ho indicazioni non vedo movimenti significativi verso questa questa direzione quindi se ne è parlato se ne parla ma quindi credo che si continuerà si procederà almeno per un po' con le creole autorie bisogna iscriversi quando si apre la finestra per iscriversi alle creole autorie e poi in base ai titoli che uno ha insomma capire se ha il punteggio sufficiente per essere assunto o meno quindi per il momento penso che non cambi la situazione ok prof ci sono novità ci chiedono aspetti che mi perdoni allora questo dell'ufficio del processo l'abbiamo letto ci chiedono se con la laurea in giurisprudenza 24 CFU si può partecipare al concorso straordinario TER mi sembra di sì sì anche io sono abbastanza sicura però ovviamente quando esce il bandoli diciamo che toglie ogni dubbio aspettiamo il bando ma direi di sì sì indicativamente dovrebbe essere così le sedi di esame del concorso agenzie entrate dovrebbe essere in base alla residenza del candidato o alla regione indicata nella domanda no nel comunicato dell'agenzia lo andiamo a riprendere in caso ricordi io male perché poi poi il 16 ottobre daranno ulteriore comunicazione prof si ricorda sì assolutamente sì ma se non sbaglio già nel comunicato precedente c'era scritto per residenza però onde evitare di dire sciocchezze prendiamo proprio il bando l'avviso l'ultimo avviso comunicato quello del 4 settembre vediamo ad esempio il profilo da 3970 avviso del 4 settembre allora quindi la prova verrà dal 3 di si svolgerà su più sedi decentrate per le isole comprese la distribuzione sarà effettuata tenendo conto della residenza dichiarata dagli interessati nella domanda di partecipazione quindi ricordavo bene residenza dichiarata ok e i posti prego questo per i funzionari tributari in caso per l'altro profilo i funzionari di servizi di pubblicità immobiliare in caso abbiano fatto una cosa diversa ma mi sembra ricordare lo stesso anche per questi sì sempre tenendo conto della residenza ok per entrambi i profili ok andiamo avanti allora concorso sempre agenzie entrate funzionari risorse umane sarà bandito nel 2024 ad oggi non abbiamo ancora indicazioni precise la programmazione dava così la programmazione agenzie entrate che è datata diciamo luglio secondo loro sì dobbiamo ancora attendere indicazioni più precise al momento ancora comunque ci saranno altri bandi dell'agenzia dell'entrata tra cui questo per le risorse umane poi esattamente quando è un periodo in cui siamo come dire in evoluzione costante quindi aspettiamo come evolverà la situazione quindi al momento un'indicazione gennaio febbraio marzo fine anno non lo sappiamo è possibile che venga pubblicato nel 2024 io vi direi di comunque per chi punta questo concorso che non ci sono tanti concorsi di questo tipo nella pubblica amministrazione o meglio ogni tanto ce n'è ma magari solo per un posto due posti qui ci sarà qualche posto in più è un bel un bel profilo io direi insomma iniziate a studiare non perdete tempo ci chiede infatti la Valentina è uscito il bando personale ATA dove si fa la domanda di solito la domanda non è sul portale dell'amministrazione dell'istruzione prof mi sbaglio io forse su come si chiamano il provveditorato sul portale dell'ufficio scolastico provinciale sicuramente regionale deve provare a vedere o ufficio scolastico provinciale o ufficio scolastico regionale della regione a cui lei è interessata regione Puglia ultimo concorso per gli idonei non assunti le risulta che c'è un accordo per cedere ad altri enti le graduatorie con l'elenco idonei si stanno stanno perfezionando degli accordi con ad esempio mi parlavano credo del comune di Barletta non vorrei dire una fesseria attenzione perché le notizie sono tante ma mi sembra tipo tanto per darvi un'idea un accordo con il comune di Barletta che pescherebbe tipo 7-8 unità dalle graduatorie dei concorsi della regione Puglia quindi accordi di questo tipo pare che sì c'è l'intenzione alcuni li stanno proprio perfezionando però considerate graduatorie dove che ne so ci sono 10 posti disponibili e intendono e c'è una lista di 180 doni è difficile che possano essere assolbiti tutti non è impossibile è difficile che possano essere assolbiti quindi comunque sia sia la regione dovrebbe assumere qualcuno in più rispetto ai posti messi a a bando sia alcune 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 persone saranno assunte grazie a queste convenzioni per lo più con enti quindi comuni della regione Puglia ok ci chiedono se nel 2024 ci saranno altri bandi agenzie entrate per amministrativi o altri profili abbiamo detto risorse umane io mi ricordo la logistica ancora i funzionali tributari e degli informatici forse sì tecnici assolutamente anche tecnici sì ci saranno altri bandi a posto prof abbiamo terminato le domande bene e quindi io le auguro una splendida giornata di lavoro qui c'è il sole grazie a lei a chi ci ha seguito perfetto a lei a chi ci ha seguito al nostro regista diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo e ovviamente nel giro di 48 ore sarà disponibile anche la registrazione del webinar sul canale youtube di maggior editore playlist preparazione concorsi leggi oggi ovviamente chi ha altre domande da porle le può anche scrivere sempre a leggioggi chiocciolamaggioli punto it ringrazio a tutti e auguro buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti